Allora, la comunità energetica è un progetto che ha bisogno di sostegno dal punto di vista progettuale e dal punto di vista finanziario. Banca Etica, nel nostro caso specifico, è il partner che potrebbe supportare un'eventuale nascente comunità energetica nel finanziamento del progetto, che non è banale, perché in realtà se bisogna installare pannelli solari per coprire una comunità energetica importante, l'investimento non è da pochi soldi. Quindi il progetto deve tenere conto dell'equilibrio economico, ma deve tenere conto anche del fatto che senza uno strumento finanziario importante la comunità energetica non potrà mai decollare. E la finanza etica è esattamente coerente con il progetto delle comunità energetiche, soprattutto se si realizzeranno in termini sociali, come sarebbe nostra intenzione di fare. La comunità energetica è costituita da produttori, consumatori e prosumer. Produttori che cedono l'energia prodotta dai pannelli solari o da altre forme di energia rinnovabile prodotte da loro, i consumatori che comperano l'energia e i prosumer che sono i produttori insieme ai consumatori. Diciamo che chi partecipa alla comunità energetica può partecipare a diversi livelli, può partecipare partecipando al progetto iniziale in quanto tale, cioè se è una cooperativa facendo parte della cooperativa, se è un'impresa sociale partecipando al capitale sociale, nelle diverse forme che adesso tecnicamente sarebbe troppo lungo spiegare, ma nelle diverse forme che la comunità energetica può essere costituita. Quindi tutti quelli che hanno interesse a salvaguardare l'ambiente e a risparmiare la produzione di CO2 attraverso i fossili, la comunità energetica è la risposta ed è una risposta che è coerente con il messaggio di Papa Francesco non l'ha laudato sì ed è coerente con i valori fondamentali di Banca Etica. Banca Etica c'è per mettere a disposizione degli strumenti che consentono di fluidificare intanto il percorso, che è un percorso ostacoli, in quanto la progettazione alla fine è veramente un percorso ostacoli, sono appena usciti dei decreti utili per fare questo ma devono essere decifrati innanzitutto e successivamente anche i prodotti utili dal punto di vista proprio della messa a terra a cominciare l'apertura di un banale conto corrente agli strumenti del credito sia le persone fisiche che vogliono entrare in una CER, sia le organizzazioni, l'organizzazione stessa CER che gestisce la CER che può essere di varia natura, può essere anche un ente religioso, può essere anche un ETS. Quindi si cerca di rendere fluido il percorso, di andare a mettere olio in questo ingranaggio che altrimenti sarebbe effettivamente molto complesso. È la volontà di farcela e quindi di partire e di esserci con gli strumenti che sono gli strumenti della finanza etica che ricordiamo è quella finanza che ha reso possibile anche il Conte Energia 25 anni fa. Finalmente abbiamo attivato il nostro primo impianto di produzione fotovoltaico da 20 kilowatt, una giornata che arriva dopo otto mesi dalla nostra costituzione perché ci siamo costituiti a marzo con l'obiettivo di partire con questo primo impianto. Speriamo poi di poterne fare altri o comunque di poter allargare il nostro intervento. L'impianto è nel quartiere di Albaro in Corsi Italia e appunto ha 20 kilowatti potenza e quindi speriamo genererà circa 20.000 kilowattora all'anno che è più o meno l'equivalente del fabbisogno annuale di otto famiglie. Poi ovviamente l'impianto produce solo di giorno per questo che in realtà siamo un po' di più, siamo già una decina di famiglie più una piccola attività commerciale che condividono questo impianto perché ovviamente l'impianto produce solo di giorno e quindi l'energia prodotta e condivisa viene scambiata dalle prime ore della mattina fino alla sera. Dove viene prodotta l'energia? Il impianto solare? Sì, sono per la precisione 49 pannelli fotovoltaici da 400 watt, tutti collegati insieme sul tetto di un piccolo stabile. Sono posizionati tutti orizzontali, diciamo sdraiati, che in realtà è un pochino meno efficiente ma questo permette di far sì che siano invisibili dalla strada. Infatti se voi passerete lì davanti non vedrete niente perché sono appunto nascosti perché aderenti al tetto. Oltre a questo sono completamente opachi, questo per evitare la rifrazione perché siccome la palazzina è bassa rispetto alle altre case eviterà che i riflessi vadano nelle finestre, nelle case e diano fatti dalle persone. Quello che ha ispirato fin dall'inizio, siamo sorti nel 2014, è stata una grande attenzione da parte di soci, differenti soci, dove ci sono dioci, ci sono congregazioni religiose, ci sono anche singole parrocchie che hanno preso ispirazione della laudato sì di Papa Francesco e da lì hanno cercato di animare e di dare sempre più forza a questo disegno importante a cui Papa ci ha invitato a riflettere, cioè che la terra non è nostra ma la terra va conservata, anzi va mantenuta. E quindi da questo punto di vista ci preoccupiamo di recuperare, di mettere in ordine gli edifici ad uso collettivo con Fratello Sole e Energie Solidarie e di costituire e animare da un po' di tempo a questa parte anche le comunità energetiche perché crediamo nel valore, soprattutto nella prima parola, comunità. Su questo vogliamo lavorare e crediamo di poter fare qualcosa di particolare insieme a Divo non solo a Genova ma in giro per tutta Italia. Ci stiamo attivando per dare supporto alla nascita di queste comunità energetiche rinnovabili sfruttando la nostra esperienza di cooperativa di produttori di energia rinnovabile che condividiamo con i nostri soci e cercando appunto di proporre un modello il più possibile etico, democratico e inclusivo che sia attento sia da un lato ai bisogni del territorio e dall'altro lato a lasciare i benefici anche economici che queste iniziative possono produrre sul territorio. Quindi un approccio diverso magari da altri soggetti che possono fare offerte magari anche più convenienti in un certo senso però molto spinte più sull'aspetto economico-commerciale. Sul territorio adesso noi, la cooperativa come dicevo, ha membri distribuiti in tutta Italia e qua con un gruppetto di soci Liguri ci stiamo attivando per fare rete con altre realtà locali come la Cersole di cui si parlerà questa sera e anche con i partner come i GIT di Banca Etica proprio per creare una rete di supporto e di promozione di queste iniziative dando la possibilità a chi è cittadini ma anche agli enti, alle associazioni del terzo settore che si vogliono attivare di poter usufruire dell'esperienza ciascuno del suo settore per far nascere queste iniziative e far sì che appunto siano i cittadini protagonisti sia nel momento in cui le promuovono sia poi nei benefici che ne riceve il territorio. Abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa perché rientra nelle tematiche che segue il GIT e la banca ovviamente stessa, quale ad esempio il consumo delle risorse naturali, le comunità energetiche e questa appunto in particolare l'abbiamo voluto organizzare con E'Nostra. Dicevo che il GIT è una peculiarità di Banca Etica perché abbiamo solo Banca Etica a questo gruppo di iniziativa territoriale che si occupa di organizzare iniziative rivolte ai soci e anche al pubblico, ai cittadini, per avvicinarli ai temi della finanza etica.